benvenuti a questo terzo video tutorial sulla compilazione della domanda per regolatori provinciali e di istituto di supplenza per gli anni scolastici 2024 2025 e 2025 2026 entrati nel modello di presentazione della domanda dopo aver compilato obbligatoriamente questa sezione obbligatoria della scelta del gradatore di interesse la fascia il titolo di accesso per il numero di gradatore per cui si attitulano vediamo appunto per esempio una compilazione di del tab 1 per quanto riguarda la primaria posto comune prima fascia dunque della primaria poi la prima fascia della scuola secondaria di secondo grado la 0 12 per chi ha una abilitazione la sta conseguendo in questo caso è un'abilitazione che sta per essere conseguita e dunque una grattoria in che viene inclusa con riserva con lo scioglimento della riserva per se il titolo dovesse essere conseguito entro il 30 di giugno 2024 poi l'inserimento in seconda fascia secondaria di secondo grado per la 0 11 e il l'inserimento con riserva del sostegno prima fascia per chi deve conseguire un titolo entro sempre il 30 giugno 2024 e dunque potrà sciogliere la riserva una volta inseriti questi queste gradatorie ecco che si può passare alla sezione b molto importante perché si inserisce e ti inseriscono i titoli ulteriore oltre al titolo di accesso attenzione perché questa sezione b deve essere compilata per ogni tab di valutazione dunque per ogni tabella di valutazione andiamo su accedi e troviamo proprio ecco le tabelle di valutazione delle gradatorie inserite nel prima sezione e troviamo la tab 1 la tab 3 la tab 4 la tab 7 ognuno di questi tab va compilato per esempio facciamo l'esempio del tabella di valutazione 1 si consiglia a tal proposito di scaricarsi le tavole di le tabelle di valutazione allegate all'om 88 del 20 maggio 2024 per verificare la corrispondenza dei titoli da inserire apriamo questa tabella di valutazione e vediamo tutti i tab possibili da b1 scendiamo fino a trovare il b24 dunque sono da tab 1 tab 24 il tab 24 e proprio l'inserimento di certificazioni informatiche per cui se il l'aspirante dovesse avere le certificazioni informatiche facendo inserisci e aggiungendo potrà aggiungere in questo contesto dando tutti i titoli di certificazione da data del conseguimento dove è stata l'istituzione che ha rilasciato il titolo per poter poi inserirlo facendo inserisci e così via i vari tab dunque controllare i vari tab per esempio siccome un tab 1 ed è della scuola primaria il titolo di accesso potrebbe essere ad esempio un diploma magistrale preso prima del 2001 2002 ecco che se si ha un diploma di laurea laurea vecchio ordinamento o laurea specialistico laurea magistrale da questa azione disponibile cioè dal b4 si può inserire per esempio un titolo accademico professionale di laurea facendo per esempio titolo di laurea vecchio ordinamento facciamo ad esempio selezionare la laurea per esempio in chimica inserire la data di conseguimento del titolo di laurea immaginiamo che nel 2019 a giugno il 18 giugno del 2019 sia stata conseguita questa laurea l'istituzione che ha rilasciato la laurea fase si fa l'inserimento e così si avrà correttamente l'operazione già conclusa ecco questi sono i titoli sono tanti titoli che si possono inserire non ultimo tutti i titoli di sostegno che per esempio si posseggono perché essendo questo una tabella di valutazione di un posto comune della primaria se si hanno titoli di sostegno questi possono essere indicati per esempio molto facilmente inserendoli nel punto b 18 b 18 titoli di specificazione sul sostegno agli alunni con disabilità vedete poi si possono inserire con tranquillità aggiungendo e inserendo il titolo indicando il titolo di specializzazione il grado di istruzione del titolo per esempio se ci sia alla secondaria secondo grado titolo di specializzazione sostegno secondaria secondo grado e poi chiaramente polivalente e si può inserire così la modalità di conseguimento se per esempio è stato conseguito con un tfa si indica con questo questa dicitura e data del conseguimento ad esempio può essere stato per esempio il giugno il 25 giugno 2021 l'istituzione università degli studi di reggio calabria e così si potrebbe inserire questo titolo ma se ne potrebbe anche inserire un secondo della stessa natura cioè del b 18 si potrebbe andare a conseguire un secondo titolo di questo di tipologia dunque facendo ancora azioni disponibili modificando e inserendo un nuovo titolo e dunque avendone due di titoli di specializzazione per esempio di riferito al primo grado e così si fa inserisce si ottiene il doppio punteggio riferito al titolo di sostegno chiaramente tutti questi titoli vanno non solo inseriti per il tab 1 ma ritornando indietro e andando agli altri tab di riferimento e dunque andando a un altro tab per esempio il tab 4 si fa la stessa identica cosa si inseriscono i titoli di riferimento per la tabella di valutazione 4 che è diversa dalla tabella di valutazione 1 che è diversa dalla tabella di valutazione 3 dunque questa operazione va fatta ogni volta per esempio nelle b 15 di del tab 4 si possono inserire i master universitari di primo e secondo livello corrispondente a 60 cfu nella con la stessa modalità con cui abbiamo fatto vedere prima oppure le certificazioni informatiche nel punto b 17 ci sono dei titoli che valgono per i vari tab ma vanno ripetuti a proprio per ogni tabella di valutazione speriamo che questo tutorial molto importante perché specifico nella compilazione del titolo di titoli culturali oltre il titolo di accesso sia utile ai nostri telespettatori seguiteci sempre nei nostri canali social facebook youtube perché faremo delle dirette incentrate proprio sulle gps sull'aggiornamento delle gps spiegheremo in maniera particolare la compilazione della domanda rispondendo alle vostre istanze grazie e arrivederci grazie 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 grazie